In apertura della seconda sessione di lavori di novembre del Consiglio Provinciale di Bolzano, il presidente della provincia Compacere e gli assessori A. Hammer, Schuller e Widman hanno preso posizione sugli ultimi interventi di contenimento del virus covid-19. I test volontari avevano avuto successo, hanno detto, ma era necessario continuare a rispettare le regole di distanza e igiene. L'ordinanza di lunedì 30 novembre avrebbe portato qualche allentamento con la riapertura delle scuole fino alla secondaria di primo grado. Ma era ancora in forse la stagione turistica in attesa di un accordo a livello europeo. Sarebbero arrivati ulteriori contributi a settori particolarmente colpiti ed era prevista una strategia di test mirati per evitare nuovi hotspot. A questo scopo erano stati acquistati 1.200.000 test. Il tema covid è tornato nell'ambito delle interrogazioni sui temi d'attualità e delle emozioni dell'opposizione. Respingendo proposte di Alto Adige nel cuore, Freiheitlichen, Gruppo Verde, Partito Democratico, Liste Civiche, Tim Kha, la giunta ha spiegato in merito ad aiuti e riduzioni fiscali che sull'Imu potevano agire i comuni, che erano in corso trattative con lo Stato per ottenere la deroga di pagamenti e che era previsto l'utilizzo del recovery fund. Inoltre la provincia avrebbe valutato come integrare localmente il prossimo decreto ristori. Nell'elaborare le ordinanze, è stato detto, veniva sempre consultata la commissione di esperti covid. In quanto alle disposizioni sulla quarantena, essa ora terminava dopo 21 giorni per i sintomatici, dopo 10 giorni per gli asintomatici. Approvata la mozione con cui la City Roller Freiheit chiedeva che fossero consentiti gli incontri con i parenti stretti non conviventi. In tema scuola, respinta una del Movimento 5 Stelle per percorsi abilitanti per insegnanti provinciali. Bocciata anche la mozione del Gruppo Verde per workshop sulle relazioni non violente sulle scuole, in quanto gli interventi a livello scolastico sarebbero già numerosi. Via Libra anche ad una mozione della SVP per un tavolo di coordinamento per la lotta contro la violenza sulle donne presso la commissione provinciale per le pari opportunità. Quella di SVP, Freikheidrichen, Alto Adige Autonomia e Lega Salvini-Alto Adige-Süttirol per verificare la possibilità per le aziende di non dover restituire i contributi già ottenuti nel primo lockdown e il voto a SVP e Lega Salvini-Alto Adige-Süttirol per sollecitare Governo e Parlamento a proteggere le donne dalla violenza di genere. Approvata anche un'altra proposta della SVP e Lega per un sistema di allerta della protezione civile con notifiche push. Infine è stata approvata con 19 sì, 13 no e tre estensioni la norma di modifica della legge territorio e paesaggio del 2018 che prevede la correzione di errori materiali nelle norme di attuazione o altri elaborati. Permette all'amministrazione provinciale di concludere accordi urbanistici, consente di realizzare alloggi per collaboratori nelle zone produttive e il distaccamento di volumetria all'interno del verde agricolo. Prevede una norma transitoria per l'approvazione del piano di sviluppo turistico. Mantenuta la rappresentanza femminile nelle commissioni urbanistiche comunali grazie a un emendamento del gruppo verde che però ha bocciato la norma così come il Timka e i Freiheitlichen. L'assessora Hochgruber Quencer ha evidenziato la volontà di tutelare il paesaggio aggiungendo che se all'inizio aveva avuto l'impressione di essere da sola ad attivarsi ora la responsabilità era di tutti.